Sì? Qualcosa di sinistra Potete lasciare un commento sul blog qualcosadisinistra.radiopopolare.it su Twitter con l'hashtag qualcosadisinistra Bentornati sulle frequenze di Popolare Network sul blog qualcosadisinistra.radiopopolare.it su Twitter con l'hashtag qualcosadisinistra oppure con gli sms al 3316214013 naturalmente anche qui alle persone che sono sedute nell'auditorium di Radio Popolare Allora, io faccio in realtà un salto indietro nel tempo perché è possibile paragonare questo 2013 al 68? Allora, i primi a crederci in realtà sembrano essere proprio loro i grillini Sentite cosa ha detto Gianroberto Casaleggio al comizio finale quello di Piazza San Giovanni Io mi ricordo un famoso slogan del 1968 che diceva la fantasia al potere ecco, noi abbiamo bisogno di fantasia e creatività per uscire da questa situazione era a Casaleggio al comizio di Piazza San Giovanni attenzione perché ieri il direttore del Corriere della Sera Ferruccio De Bortoli apriva il suo editoriale in prima pagina dicendo citando vediamo se qui Emilio Molinari è preparato grande la confusione sotto il cielo quindi? Mao Zedong bravissimo hai indovinato continuava naturalmente Mao Zedong la situazione è eccellente De Bortoli diceva invece no, non è eccellente è pessima la situazione però c'è un protagonista di quegli anni che vede analogie col 68 in un modo un po' particolare stiamo parlando di Mario Fezzi l'avvocato del lavoro punto di riferimento per la CGL per la sinistra milanese per darvi un'idea è nata a casa sua la candidatura di Giuliano Pisapia ecco trovate il suo intervento completo sul blog qualcosa di sinistra punto radio popolare punto it adesso ne sentiamo però una sintesi no, intanto io non ho fatto un paragone tra il 68 e oggi il Movimento 5 Stelle ho fatto un paragone del 68 legato alla incapacità odierna di capire il fenomeno 5 Stelle il Movimento 5 Stelle paragonando la incapacità dei nostri genitori nel 68 di capire quello che stava succedendo però è anche vero che lì dentro c'è davvero un po' di tutto non c'è soltanto un pensiero progressista no, ma non c'è dubbio ma infatti le ricerche dell'Istituto Cattaneo di Bologna che mi sembrano abbastanza puntuali hanno chiarito da dove vengono quelli che votano il Movimento 5 Stelle che sono un pochino la Lega moltissimo la sinistra e moltissimo quello che era il non voto precedente quindi comunque sono prevalentemente di sinistra poi sicuramente c'è dentro un po' di tutto e poi nella ribellione ci sta anche qualcosa che non sia di sinistra per carità del cielo ci manca altro qual è la reazione a questa mail che ti ha colpito di più? c'è stata un sacco di gente che mi ha risposto dicendo tu ci aiuti a ragionare e in questa maniera cerchiamo di capire cosa sta succedendo e quindi la vedeva come un fatto positivo c'è stata anche tanta gente che mi ha risposto dicendomi che stavo vedendo l'ucciole per lanterne perché in realtà questo era un movimento incomprensibile questo era un movimento di folli di un compito le solite cose che vengono dette in questi giorni anche sui giornali e quindi mi davano del pirla sostanzialmente la sinistra però da dove deve ripartire? la sinistra riparte dal fatto di dover cominciare a dialogare con Grillo e con i grillini con il Movimento 5 Stelle cioè comunque vanno riconosciuti come interlocutori come interlocutori normali non marziani perché appunto come dicevo prima sono figli nostri li abbiamo prodotti noi i grillini e con questi bisogna cercare di stabilire un dialogo e poi creare delle maggioranze delle condizioni per governare insieme io ringrazio Mario Fez anche perché si è autodenunciato mi ha dato del pirla anche per queste cose adesso ci possiamo permettere perché lo ha detto lui direttamente allora è per Emilio Morinari Mario Fezzi parlava in questa mail che ha mandato ad un giro di Aria Nuova ha detto questo successo del Movimento 5 Stelle è Aria Nuova oggi invece ci troviamo con la sinistra radicale che per la seconda volta nel giro di due elezioni è fuori dal Parlamento è vero c'è la sinistra ecologia e libertà ma la pattuglia di Nichi Vendola non riesce a compensare il fatto che sono spariti adesso vado a memoria 700.000 voti nel giro di un'elezione ecco è colpa solo di una campagna elettorale sbagliata no assolutamente no io credo che si sia esaurita la loro funzione e lo dico con molta franchezza perché sono compagni e amici di tanti tanti anni ma si è esaurita la loro funzione c'è il fallimento dei gruppi della sinistra radicale che si è messi attorno ad ingroia e non è solo perché ingroia è perché è nata male la lista poco tempo è fallita una prospettiva io credo che non ci si possa presentare oggi in una riedizione del comunismo o perlomeno di tipo conservativo e pensare che i movimenti vi si infilano dentro e ti interpretano come tua rappresentanza e credo che che vendola abbia esaurito dentro nel PD abbia fatto i conti male pensava in modo diverso e oggi il 3% non conta più niente lì dentro e quindi questo io lo dico con molta franchezza dovrebbero liberare le forze per rafforzare quei movimenti non gli dico di entrare in grillo vorrei che essere un po' inteso ma avere la modestia di ricominciare un po' da capo come hanno fatto altri di ricominciare da capo ricominciare a risentire il polso della gente domandarsi perché voglio dire una cosa su Mario Fezzi poi magari tu me la fai riprendere quando lui dice nell'elettorato di grillo c'è una fetta anche di destra e lo dice con un certo sconcerto e guardate che sono tanti a pensare ma io penso che siamo bene lo dico francamente e noi l'elettorato di destra o ci decidiamo a conquistarlo con le idee nostre o se no non vinceremo mai che è una questione politica e non matematica mi sembra di capire o tu crei una coscienza diversa nella gente e deve essere il primo elemento della politica cosa faccio devo cambiare il senso comune della gente devo cambiare il senso comune della gente che è di destra che è dietro la parrocchia bisogna andargli a cercare però domanda per Roberto Santaniello invece Beppe Grillo vorrebbe un referendum sull'euro anche oggi su affari finanza di Repubblica per esempio c'era questo professore suo collaboratore che diceva non è vero che noi vogliamo uscire dall'euro vogliamo un referendum Bersani vuole ridiscutere del fiscal compact e chiede anche all'Europa più attenzione sulla disoccupazione a base della tua esperienza c'è davvero la possibilità che si vada in questa direzione cioè si può ridiscutere del fiscal compact oramai tra l'altro non lo chiede mica soltanto l'Italia sì no cerco veramente continuo a cercare di avere un atteggiamento istituzionale allora per esempio forse Bersani doveva fare come Hollanda che lo ha chiesto durante la campagna elettorale di ridiscutere il fiscal compact poi che l'ha fatto dopo ne avete più sentito parlare forse mi sono distratto quindi ci siamo distratti quindi può darsi che in questo potrebbe avere un atteggiamento più risoluto andiamo sul referendum ovviamente ci sono tutte chiedo scusa se mi fanno su questo ma il fiscal compact si può modificare cioè l'accordo che è stato preso a livello europeo si può modificare diciamo che la signora Merkel è stata molto abile mi prendo 30 secondi per spiegare perché è stata abile e perché ha preso un po' per il collo tutti gli altri perché sostanzialmente non c'era bisogno del fiscal compact perché perché faceva parte di tutti gli strumenti che erano stati adottati con il diritto comunitario cioè con regole che vengono più o meno democratiche cioè più o meno solide eccetera invece ha previsto anche grazie a questo gioco di sponda che gli ha fatto Cameron non entrando in questo gioco ha previsto un trattato di natura intergovernativa che è sganciato dal diritto comunitario e che rende più rigido la possibilità di modificarlo quindi questa è la la forzatura questa è la forzatura secondo me è difficile modificarlo perché ci vuole una massa critica di di stati che lo che lo che lo che lo modificano o che chiedono la modifica certo bisogna comunque lavorare in quella in quella direzione ma non è non è il fiscal compact che impedisce una politica di crescita ci sono tutta un'altra serie di strumenti che possono essere attuati per esempio io e Dastoli nel libro li indichiamo non siamo noi a pensarli questi strumenti ma ci sono degli economisti o di gente che riflette su questo e naturalmente un piano sostenibile di economia sostenibile può essere lanciato e possono essere attuate altre altre azioni per per rilanciare e rafforzare la crescita in Europa a questo punto però ce le dica proprio come titoli un mega piano per lo sviluppo sostenibile dell'Europa il compianto Tommaso Padoaschioppa disse delle cose saggissime prima di lasciarci il rigore agli stati lo sviluppo all'Unione Europea ci sono possibilità di creare sinergie nel campo dell'industria della difesa nel campo della politica estera nel campo della ricerca tecnologica dove si possono fare cose insieme riducendo i bilanci nazionali e dando qualcosa in più al bilancio comunitario cosa che naturalmente non è stato fatto insomma ci sono vari strumenti certo l'unica cosa sicura sicura su cui uno deve lavorare è che ormai tutti ma proprio tutti ma tutti sanno che lo sviluppo e la crescita economica non può avvenire con l'indebitamento come succedeva per larga parte negli ultimi 40 anni della storia dell'Europa su questo è chiarissimo però senza crescita grillini indignados euroscettici la faranno pagare a tutti su questo non c'è dubbio cioè la priorità è la crescita se un leader progressista meno progressista non si pone in quest'ottica sono guai grossi per l'Unione Europea prima di dare la parola Eleonora giusto una citazione che ci viene fatta da diversi ascoltatori ci chiedono di raccontare che Wuming ha scritto delle cose interessanti sulla nascita del Movimento 5 Stelle e sulle macerie dei movimenti ci chiedono di citarlo Wumingfoundation.com lì sicuramente ne troverete del materiale altro blog che ci segnalano diversi nostri ascoltatori se volete andare a vederlo è quello di Roberta Lombardi la neo capogruppo alla Camera del Movimento 5 Stelle perché ha fatto una dichiarazione filofascista se ho capito bene esatto e invece una domanda per Emilio Molinari adesso si parla tanto abbiamo parlato tanto anche questa sera proprio di tornare a dare il potere dal basso ai cittadini ma c'è davvero la possibilità che dai circoli del PD e dai meet up del Movimento 5 Stelle arrivi la voce ai dirigenti di chi vuole che si faccia un'alleanza anche se su pochi punti per formare un governo bisogna provarci noi come Movimento dell'acqua so che si sta elaborando appunto una sorta di appello da lanciare per dire mettiamo questo punto dell'acqua io penso che lo possono fare benissimo un'altra cosa è quella dei Notave e delle stoppe le grandi opere per modo che su questi due temi grossi grossomodo da una parte e dall'altra sia la base stessa che lo pongano pongono questi problemi e dicono sì noi ci impegniamo in questo noi ci impegniamo in questo se si comincia a dire che noi ci impegniamo in questo e forse ci trovano anche gli elementi per poter discutere da questo punto di vista ecco io credo che nei prossimi giorni noi la lanciamo questa cosa ecco io devo fare si sente? no? si sente? adesso si è la presenza ora apro ecco mi sentite? perché? ecco si sente allora mi ascoltatrice tu vuoi fare una domanda? sì tanto facciamo fare la domanda da questo io con queste lezioni mi sono data una svegliata ho 33 anni ed ero tutta compresa nel mio ruolo di figlia di un imprenditore siamo in crisi grossa ragazzi io non so se voi vi rendete conto però si fa veramente fatica tutti i giorni ok? e le cose sono veramente veramente cambiate cioè non basta più esserci da 50 anni per farcela sostanzialmente per cui bisogna trovare motivazioni nuove e se lo si deve trovare da imprenditori forse lo si deve anche trovare politicamente io devo dire che queste elezioni politiche non mi hanno mosso dentro niente ero sicura che avremmo vinto io sono stata tesserata del PD da quando è nato il PD non ha 20 anni ecco questa è un'altra realtà cioè nel senso che il PD è una realtà abbastanza giovane quando ne ho compiuti 30 ho fatto un giro sul treno del PD che era una scuola politica europea per cui mi sono fatta un giro per l'Europa ed è stata un'esperienza bellissima veramente bellissima per cui ringrazio tra le altre cose il PD perché pagando non so 100 euro mi sono fatta 5 giorni in giro per l'Europa lì ho incontrato la base del PD che è bellissima cioè ragazzi sotto i 30 anni io ero la più vecchia per cui ero intorno ai 20 che si fanno un gran mazzo tutti i giorni militano aprono i circoli si danno da fare e proprio belli puliti intelligenti ok l'unica cosa è che sono rispettosi cioè rispettano i loro vertici e lì purtroppo invece io mi sono allontanata perché non mi piace la politica non mi piacciono i vertici del PD e gli chiederei vivamente di dimettersi perché hanno perso e si tolgano di mezzo per cui c'è una base pulita intelligente competente che è pronta adulta non so come dire perché a 30 anni siamo degli esseri umani adulti ho due figli e mi propongo come dire di occuparmi della comunicazione del PD che fa schifo no no nel senso non io personalmente ma nel senso invito a parlare della comunicazione del PD e dei progetti perché di sinistra veramente i leader un filosofo mi ha spiegato perché noi facciamo lezioni di filosofia in un'azienda che la sinistra uccide i suoi leader cioè gli servono solo fino a un certo punto poi dopo li fa fuori perché non li ama sostanzialmente noi non abbiamo bisogno di un leader noi abbiamo bisogno di un progetto che non sia l'anti-berlusconismo perché quello è ridicolo cioè una volta che si fa fuori il berlusconi poi appunto siamo qua che diciamo chi può governarci perché il grillo c'è ma non vuole governare allora ti chiedo solo una domanda al volo ma devi rispondere veramente con un flash tutto questo l'hai detto solo noi qui in questa in questa trasmissione o l'hai detto anche ai dirigenti del PD non ti hanno dato retta un flash no non ci sono ancora arrivata ma ci arriverò grazie anche perché gli sto chiedendo di dimettersi per cui non so come la prenderanno questa non era una non era una domanda rivolta a Emilio Molinari neanche a Roberto Santaniello perché non sono semplicemente rappresentanti del PD quindi non hanno titolo diciamo così per rispondere ma l'accogliamo come una sollecitazione della base anche se ecco qui non so se Emilio Molinari vuol dire qualche cosa si risolve qualche cosa con le dimissioni del leader in questo momento dei leader anzi no io penso proprio che non sia questo il problema da anni il PD c'è questo dibattito interno che poi l'abbiamo visto nelle primarie con Renzi eccetera sembra che sia semplicemente un fatto di svecchiamento di un gruppo dirigente burocratico che sia insediato che non va via mai o che sta nelle istituzioni non va via mai non lascia spazio ai giovani che è un problema dico che non è un problema ma quello che manca la capacità diciamo degli elettori dei simpatizzanti dei militanti del PD è quello di chiedersi ma su quali contenuti su quali contenuti non c'è mai questa quando si viene fuori dei conti voglio essere provocatorio anche nei confronti degli ascoltatori non è possibile che questa sinistra europea e forse anche mondiale che ha abbracciato il liberismo perché di questo si tratta ha abbracciato da vent'anni diciamo le compatibilità poste dal liberismo e dal mercato per cui ti porti a un certo punto che sei schiavo dal mercato ti alzi alla mattina e il mercato ti dice se sei gradito o non sei gradito se le tue azioni sono gradite o non sei gradite se chi elege è gradito o non è gradito cioè è la fine della politica e ci ha portato allora bisognerà tirar fuori qualcosa ecco io ho detto la questione dell'acqua le questioni delle privatizzazioni non voglio stasera di fare io il programma però sono temi in cui questa base comincia a parlare e voglio essere possibile che si qualifichi solo per una cosa lo dico alle compagnie femministe a tutte la sinistra si qualifica solo sui temi delle coppie di fatto delle coppie omosessuali dei matrimoni gay cose sacrosante sia chiaro ma è qualificata solo su quello sembra che non abbia niente da dire sul mercato sui diritti sullo statuto dei lavoratori annientato su tutte queste cose e quando parla e fa il duro se la prende con queste cose punto non fai un passo grillo di queste cose non ne ha neanche parlato fateci caso una domanda per Roberto Santanello per andare a chiudere perché poi come sempre la chiusura di questa trasmissione è come dire la colonna sonora di questo tempo che chiediamo a diversi esponenti è quasi una curiosità un ascoltatore diceva se l'Italia può essere considerata un laboratorio politico per l'Europa in qualche modo io aggiungo a questa domanda un'altra cioè c'è qualche leader europeo o qualche partito europeo che ti sembra più interessante dal punto di vista proprio dell'innovazione politica della capacità di cogliere questi elementi di cui abbiamo parlato stasera c'è qualcosa? no ho capito c'è uno sguardo perso ha uno sguardo perso però gli ascoltatori da casa non lo capiscono c'è uno sguardo leggero che ci sia un problema di leadership è evidente quanto Arlène Desir in Francia si è un po' perso anche lui l'ho conosciuto giovanissimo quando faceva quando faceva il racismo che aveva un entusiasmo una grinta eccetera però è anche vero che poi uno cresce e ha comportamenti più e allora è un laboratorio politico dell'Italia? sì il laboratorio politico dell'Italia deve ripartire cito un po' anche ancora il nostro libro dalla domanda che Europa conviene all'Italia e qual'Italia conviene all'Europa forse sto per iniziare un 30 secondi di qualche modo di analisi assolutamente passionale cioè io credo che la sinistra in generale in qualsiasi sua articolazione non può che ripartire dal manifesto di Ventotene dall'Europa spinelliana di Ernesto Rossi secondo me è la frontiera su cui le forze di sinistra e progressista devono lavorare io visto che ho citato molte cose questa sera c'è un articolo ricorderò sempre di Barbara Spinelli di un mese fa di 40 giorni fa dopo la discesa in campo di Monti quando parlò dell'agenda di Monti e parlò anche dell'agenda dell'Europa di una sinistra che vuole essere tale io credo che la sinistra possa ritrovare le sue ragioni attivandosi con tutte le altre forze di sinistra in Europa e lavorando in favore di un'autentica e vera unione democratica pluralista che abbia e che possa utilizzare gli strumenti della democrazia partecipativa e non lo può fare che attraverso un processo costituente grazie Emilio Molinari grazie Roberto Santagnello grazie a tutte le persone che naturalmente ci hanno ascoltato ma non è finita la trasmissione perché? Andiamo a chiudere con il suono del tempo questa sera l'abbiamo l'abbiamo chiesto a Deborah Villa l'attrice mentre come abbiamo raccontato anche questa sera molti in Europa sembrano spaventati dal risultato del Movimento 5 Stelle lei fa parte di quella tribù di entusiasti che invece vedono in questo risultato una chance unica di cambiamento ci sentiamo e ci vediamo la settimana prossima sempre lunedì alla stessa ora grazie per averci ascoltato si può fare perché io ci credo e continuerò a crederci e per sempre quindi secondo me insomma non dobbiamo demordere dobbiamo andare avanti dobbiamo crederci e insomma incrociare le dita speriamo che questa sia la volta buona in atto c'è una grande rivoluzione nel senso che con tutte le critiche che si possono fare per esempio anche a Beppe Grillo che voglio dire questa è la grande novità voglio del secolo non del di queste elezioni ma proprio del secolo perché sta veramente facendo una rivoluzione cioè sta facendo partire la politica dal basso quella dai cittadini quella che le persone possono svegliarsi una mattina e dire io voglio cambiare le cose ce la posso fare e lui e lui gli dice io sto tirando giù una porta spallate per te con tutti i difetti con tutte le magagne con tutti i casini Beppe Grillo sta sfondando una porta per noi perché io se volessi adesso candidarmi potrei farlo cioè dovrei ovviamente portare un curriculum degno diciamo così delle persone che andrebbero ad eleggermi però non sarei la figlia di non sarei manicata non farei parte di una lobby insomma non sarei la solita persona facente parte della solita cricca o delle solite cricche ovviamente ci saranno degli infiltrati sicuro come loro però ce ne saranno anche tanti bravi intelligenti capaci con la volontà di fare senza la voglia di rubare che hanno veramente capito che siamo in un momento difficilissimo stritolati dai debiti anche con le banche eccetera eccetera perché poi da quello non si può prescindere però se la smettiamo singolarmente di pensare in maniera mafiosa cioè io penso al mio e tu pensi al tuo ognuno pensa al suo forse appunto secondo me ce la possiamo veramente fare finché dal mezzo di queste tenebre una luce improvvisa mi illuminò una luce così brillante e portentosa eppure così semplice cambiare i poli da positivo a negativo e da negativo a positivo io solo sono riuscito a scoprire il segreto di infondere la vita ma che anche di più io proprio io sono divenuto capace di animare nuovamente la materia inanimata si può fare inanimata Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.